Intanto vediamo qui che vorrebbe essere la Minardi di Jung Infatti è così e viene superato da Weber Testa coda al tornante Sì, il più classico dei tornanti è arrivato all'interno della traiettoria Ha aperto troppo presto il gas, non è stato aiutato dall'antipatinamento Evidentemente è troppo veloce la sua velocità proprio all'interno della curva Quindi è andato a scivolare con tutto il retrotreno della vettura Grazie, ora una breve pausa per noi